La morte di Pasolini mi ha sconvolto molto, ecco, perché io mi sentivo molto vicino a lui, non ero sempre d'accordo con lui, però Pasolini aveva un coraggio, una capacità di provocazione straordinaria e dopo la sua morte mi sono sentito un po' più solo, un po' più disarmato, diciamo. No, no, io con Pasolini ero molto d'accordo, anche quando aveva torto, ecco. No, no, io con Pasolini ero molto d'accordo.